Effettuiamo la diagnosi elettronica e il tagliando per il tuo veicolo, anche ritirandolo a domicilio e riconsegnandolo a casa tua. OMS di Siani Luigi, ci trovi a Via Caliri 4B a Cava dei Tirreni. Le organizzazioni sindacali Confederazione Italiana Agricoltori, Coldiretti e Confagricoltura si dichiarano pronte ad avviare azioni legali per tutelare gli allevatori e combattere le pratiche sleali da parte di caseifici, cooperative e di tutte le strutture che si occupano della raccolta del latte che stanno inviando comunicazioni alle aziende di disdetta dei contratti o di mancato rispetto dello stesso con ribasso dei prezzi. Non possiamo accettare disdette unilaterali da parte dei caseifici in un momento delicato per il mondo agricolo, hanno dichiarato le associazioni. La decisione è maturata al termine dell'incontro del primo ottobre tenutosi in regione Campania presso l'assessorato all'agricoltura in presenza dell'assessore Nicola Caputo, incontro che ha avuto come oggetto proprio il prezzo del latte di bufala. Le organizzazioni affermano che i contratti vanno rispettati, così come vanno onorati i prezzi concordati all'interno degli stessi. Pertanto, qualsiasi azione di modifica va concertata con gli allevatori e in presenza delle stesse organizzazioni, come previsto dalla norma sulle pratiche sleali, decreto legislativo 198 del 2021. Non possiamo permettere, proseguono CIA, Coldiretti e Confagricoltura, che le aziende diventino bersaglio di queste attività speculative. Proprio per questo è stato deciso che l'unico modo per difendere gli allevatori è denunciare alle autorità competenti chi compie queste azioni. Gli allevatori non possono essere lasciati soli, ma vanno tutelati, aiutandoli a vedere rispettati i contratti e il prezzo del latte.